Non si fermava mai, era pieno di vitalità. Non dovevi chiedergli un favore perché lui ti anticipava e lo faceva subito. Trattina stento le lacrime, Danilo Vendrame, presidente della Confartigianato Trasporti di Treviso, e titolare dell'omonima ditta di Autotrasporti di Silea, ricordando il collega e l'amico, Silvano Spricigo. È qui che l'uomo, 66 anni, si stava recando questa mattina in salla alla sua bici, senza però mai arrivarci. Spricigo, infatti, intorno alle 4.40, è stato trovato a terra, appoggiato su un fianco da un passante che inizialmente ha creduto che fosse caduto con la bici, poi però si è accorto che il 66enne era privo di sensi. A quel punto è immediatamente scattata la richiesta di aiuto al SUEM. I sanitari, una volta giunti in via Creta, hanno tentato di rianimare Spricigo, ma purtroppo non c'era più nulla da fare. Ora aspetterà ai carabinieri ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Al momento, l'ipotesi più accreditata è quella che l'uomo si è stato colto da malore, visto che non ci sono sulla strada segni che possano far pensare al coinvolgimento di un veicolo. Ma nessuna pista viene abbandonata e per questo è stata disposta sul corpo una ispezione cadaverica. Spricigo, questa mattina, aveva lasciato la sua abitazione di Carbonera per raggiungere la ditta di autotrasporti dove lavorava da dieci anni. Sarebbe dovuto partire alle 4.30 con il suo camion, direzione Venezia. Oggi mi è caduto il mondo addosso, ci racconta al telefono la moglie Tiziana, con la quale era sposato dal 90. Lo ricorda come un grande lavoratore, amico di tutti, un uomo che si faceva in quattro per aiutare gli altri. Si divideva, ci dice, tra il lavoro e la famiglia, alla quale dedicava tutto il suo tempo libero. Spricigo avrebbe festeggiato il 67esimo compleanno tra pochi giorni, il 29 dicembre. Oltre alla moglie, lascia i figli Andrea e Valentina. Si attende ora in nulla osta del magistrato per fissare la data dei funerali. Grazie.